L'attore e regista Fabio Salvatore torna a parlare del suo secondo libro, La paura non esiste, in cui racconta i destini di due uomini che riescono a vincere la malattia e la dipendenza da alcol e droga. Fabio Salvatore è nostro ospite questo pomeriggio, il libro è qui, noi ti ringraziamo per essere venuto a trovarci di persona, ti abbiamo seguito nelle presentazioni, in quella ufficiale ma anche in quella dell'altro ieri a Gioia del Colle, vedremo anche le immagini adesso che ce la raccontano. Parliamo della paura non esiste, come nasce questa idea? La paura non esiste, diciamo che il flusso di coscienza che continua, che nasce con cancro non mi fa paura e continua con la paura non esiste e parla maggiormente di quel momento particolare in cui io ho incontrato la malattia e ho rifatto la terapia, mentre rifacevo la terapia ho condiviso questa stanza, questa stanza in ospedale con un ragazzo tossicodipendente e quindi lì mi sono trovato in un certo modo a confrontarmi con una realtà un po' lontana dalla mia. E quindi in quel momento però mi sono sentito di non dover giudicare questo ragazzo ma forse di condividere delle emozioni con lo stesso e quindi di lì è partito un nostro percorso, un percorso di vicinanza, un percorso di amicizia e alla fine entrambi abbiamo sconfitto il cancro e lui è sconfitto la tossicodipendenza. La paura sembra insomma un filo conduttore tra il tuo primo lavoro e questo secondo, insomma anche un modo per esorcizzare la paura stessa? Ma è un modo che io credo che serve per vivere la paura, la paura va vissuta come qualsiasi dolore nella nostra vita, va sempre vissuta, noi viviamo in una società che rifiuta il proprio dolore e ancor più il dolore degli altri, tante volte ci aggrappiamo alla vita, invece la vita va totalmente vissuta. Sicuramente il filo conduttore non è tanto la paura quanto secondo me la fede, la fede è un elemento importante che accomuna i due romanzi e diventa proprio la chiave di lettura per la risurrezione dell'anima. Insomma è una copertina anche molto d'effetto, io adesso la mostro. È emblematica, molto forte però che ha quel concetto di voglia di vivere, non di sfida, c'è nel senso che credere in noi stessi, in quello che abbiamo dentro di noi. Stai già lavorando ad un terzo lavoro visto che insomma sei sempre molto produttivo? No, adesso sto promuovendo questo romanzo, infatti sono felicissima di oggi di essere qui da te perché me l'ho proprio fissata come mio punto di riferimento per la nostra terra. Altro lavoro no, stiamo lavorando sulla sceneggiatura del primo film che è molto complicata, perché è difficile poter comunque parlare di se stessi e poi doverlo raccontare in un film, credimi che se sapevo che era così complicato ci avrei pensato due volte. Insomma eppure la tua esperienza sia da attore che da regista ti doveva far capire che il lavoro era un po' difficile. No, è ostico perché devi mettere troppo a nudo te stesso e non è facile. Allora in bocca al lupo, ci rivediamo qui allora per il lancio del film. Noi ci rivedremo sempre, ogni volta che voi avete voglia. Grazie, grazie a Fabio Salvatore, in bocca al lupo, la paura non esiste.